Siamo all'ingeneritore per l'ennesima volta in base ai video che già abbiamo visto di recente, quello del 13, del 15 marzo, l'hanno messo in funzione anche di mattina, ma oggi si sentono come al solito, si sentono i rumori, però fumo non se ne vede all'orizzonte, l'aria non puzza, puzza pochissimo, ma è poca, non si sente assai, eccolo, ecco gente, ecco, ci sono i camion, stanno scaricando, chi è che sta scritto là? Pigliacelli, vedi che scarica? Non lo so gente, a scaricare stanno scaricando, però non riesco a capire, pigliacelli, movimenti, boh, stai uno lavorando, andiamo più dietro, andiamo, comunque Giovan, non ce ne stai, fumo a sé, fumo non ce n'è proprio, non si vede fumo, l'altra volta, io vedo che usciva fumo da qua proprio, Mauro, forse per il fatto della festa, non accendono adesso, ah, perché dici per la festa dei tre santi? La puzza si sente, non è tanto, oh, certo che quello sta scaricando qualcosa, movimentai il, eh, movimento è il futuro, ah, movimento è il futuro, ah, che voglio, il futuro nell'immondizia, nel fumo, questo è il futuro, grazie, eh, grazie, grazie, grazie tante, grazie politici, continuate sempre andare a votare le solite schifezze, eh, mi raccomando, ecco che cosa ci danno in dono. Mauro, siamo vicino alle elezioni comunali, fra un po' ci iniziano a parlare di futuro. Sì, sì, come è questo qua, qui, qua c'è, futuro, movimento, movimentato, intendo, non vediamo nessuno, nessuno che parla del futuro che viene qua. Mauro, qua stanno tutti i movimenti, guarda, pure i macchini sono tutta città. Eh, lo so, però, oh, io fumo non evite. Eh, Mauro, quel del 15 c'era? Sì, va bene, si vedeva, però oggi non c'è niente, sembra l'aria un po', vedi, l'aria un po', sempre un po' oscurata, a differenza di là, eh, da qua sembra che, che esce il fumo, oh, oh, esce già, oh, esce il fumo, eh, eccolo, sì, sì, a sinistra va il fumo. Eh, però non si vede bene, eh. No, però non lo vediamo. Comunque qua è come... Va verso la sì, per questo si senta la punta. Eh, va proprio, va verso proprio Zapponita. Zapponita, bravo. Grande, eh. È il futuro, Mauro, questo è il futuro. Allora, vedi, senti com'è, puzza, tu. No, incomincio un pochettino a dare fastidio. Perché vedi, vedi, c'è nebbia dappertutto qua, attorno, attorno. Allora, che puzza. Ora puzza un'accidente. Basta scrivere cazzate sullo stato quotidiano, pensiamo alle cose serie, e mettete i nomi quando commentate le cose serie. Basta parlare di polire, facciamo le cose utili. Che è questo, vede, è un'opera d'arte, sì, ma è un'opera di morte. Tu invece di investire i soldi in queste cazzate, le investi con negli osperati, le investi con negli osperati, il cuore, che cazzo fanno queste merda? E questi qua stanno anche i soldi pubblici, che noi paghiamo con le bollette. Perché questa qua viene definita energia pulita. Con la messa in funzione di questo, brutta bestia qua, i carciofi, i broccoli, tutte quelle cose che si piantano qua nella zona, sono tutte cose morte. Qua sarà il deserto, e influirà anche su Zapponite, che ci troviamo a 5-6 km in linea d'arte. Tu vedi un po' qua, cioè è enorme. Cioè possiamo dire che una grande parte, cioè tipo Zapponite, cammina. No, ma è proprio il vero, è grande. Questi qua invece hanno proprio un altro paese. qua è l'erditio. Ok. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.